Ciao ragazzacci, oggi siamo qui su Demolition Build, vedo un alieno, vedo, che cosa? Dove? Perché è un alieno? Perché c'è un alieno lì? Forse è qualcosa che non lo so, intanto Guarded Park l'abbiamo scoperto, così non devo più venirci con la macchina E qui c'è un alieno, è una navicella aliena, va bene, comunque andiamo qui, Danger, Demolition in Progress Ah, Our Local Attraction, Roswell, Roswell, ma è Roswell, ok, ok, è proprio fatto per gli alieni Allora, Dust Control, Dust Control, Dust Control, Decrease Dust Level, quindi devo prima spararlo con quello lì, ok, va bene Allora, cos'è che devo fare? Demolisci, demolisci, Break the Window, quindi dove stanno le finestre? Le finestre saranno queste? Ok, ok, così le devo rompere, così con cattiveria? No, quella però non riesco a romperla Scusi, mi può dare un martellino più grande, forse? Se mi dava un martellino più grande, facevamo prima Perché c'ho questo martellino qui? Guarda, non riesco a prenderlo, per prendere quello devo fare il salto Che mi sembra stupido anche fare sto salto Ok, è così, sì, 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 forse devo stare all'interno, all'interno forse sarebbe anche meglio Quello lo prendi? Ok, ormai li prendo a volo, li prendo Quindi prendiamo questo, prendiamo anche questo, ok Più o meno ce la sto facendo, più o meno Quanto so quanto ho questa beta bisogno di lavoro Vabbè, questa qui è una beta ragazzi, lo sappiamo che è una beta Quindi le beta sono fatte così, non ci possiamo lamentare Guarda, non me la fa prendere Guarda, è questo, forse devo stare all'interno Allora, andiamo all'interno Ho capito che forse all'esterno non vuole tanto Poi è notte, ma che è sto gioco che si gioca di notte? Allora, quale sono le cose da rompere? Questa, ok, e poi questa qui Vai, 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 vai Vai, 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 spara, spara Perché non è semplicissimo saltare e rompere E guarda, non riesco a prendere Scusi, io se distruggo tutto Rimuovo electoral Questi qua Facciamo un attimo queste Perché io che devo rompere veramente Cioè, una volta che ci sono rompo tutto Devo demolire le pareti Mi preoccupo dai vetri Li rompo così proprio all'infinito Questo qui va tolto Sì, c'è qualche piccolo problema In questo lavoro c'è qualche piccolo problema Non riesco bene Guarda, guarda, guarda Non riesco bene bene a togliere le cose Vabbè, comunque Ne ho tolte 6 di 9 Quindi ho quasi finito Togliamo questo Devo stare attento quando Non è proprio perfettissimo in questa missione Perché A meno che non abbia Ok, forse vediamo così Ok, ci sono, ci sono L'ultimo è quello però Finché non lo riesco a prendere Ok, F Ok, questo l'ho fatto E poi devo demolisce Demolisce Tablet Come caspita si fa? Questi qua devo demolire Come si fa? Ah, così si deve rompere Così proprio Con martellino Cioè, martellino che uso per le finestre Lo uso anche per i tavoli E in pallets Pallets quelle caspita saranno? E forse sono quelli fuori Qua devo rompere qualcosa Devo rompere queste finestre Questi qua sono La prima cosa che mi stessa adesso Sono queste finestre che non si distruggono Le finestre che sono fatte di No, di vetro Sono infrangibili Sono quelle finestre tipo Extra russo Questo qui? Guarda, guarda Aspetta Se io salgo qui sopra Ok? Ok, task down Task down Cos'è che devo fare più? Devo fare quelli fuori Quindi tipo Era tipo un qualcosa di Un turistico Quindi questo qui? Come lo rompo? Ah, così Ci salgo sopra e lo distruggo così Non l'ho mai visto Rompere un pallet in questa maniera Come si rompono questi pallet? Rompi rompi Dov'è l'ultimo? Ah, questo qui Non lo vedevo proprio Con sta not Tutto not Demolisce Push out the UFO Quindi devo demolire Con il bulldozer Do sta qui Il cosa per chiamarsi Il bulldozer Con bulldozer ci divertiamo Facciamo un sacco di cose Con questo bulldozer Forse il bulldozer Il più bello del mondo Allora Dammi il bulldozer Ok Dove me l'ha messo? Ve lo potevi mettere più lontano Allora saliamo Che cos'è che devo rompere? Devo rompere tutto proprio Quindi solleviamo un po' Vai Devo Che cosa? Dove? Dove? Una di quelle Mi ferma? Ok Stiamo attenti perché Si rompe il cosino Questo è un po' un problema Abbiamo stati attenti Che sia la lama A lavorare Non Quindi io Quasi quasi lavorerei così Che sia la lama E non il bulldozer Perché la cabina Non è fatta Per prendere urti La lama invece sì Però noi non ce ne preoccupiamo Perché noi lavoriamo in modo Guarda 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 questo che Contro le leggi della fisica Sfida Vabbè io passo così Casomai lo riparo Che me frega 99% Ma io riparo tutto Riparo Ho una vita da riparatore Andiamo di qua Ok 98% Dust Eh Se faccio del dust E come faccio a non farlo? Lui ha detto che devo trovare Fermo Fermo Lui ha detto che dovevo sparare Tipo con un Un idrante Ma io ce l'ho questo idrante Prima di ogni cosa Signor idrante Io qua Ah ecco il idrante Eh a parte che c'ho le birre Proprio Allora questo è l'idrante Dove sta E questo? Uh E come si spara? No 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 Dammelo dammelo Lo prendo così? No Porca di quella miseria Come fa? Ah così? Ok spariamo tutto così Evitiamo Ah figo 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 Quindi devi in pratica Non so l'effetto dell'acqua quale sia Però Devi in pratica evitare Che si faccia della Della pio Giusto giusto Come lo diceva prima Lo facevo anche prima Quanto è lungo questo tubo? Non lo so Quindi fatemi qua Ridipingere Non lo sto dipingendo tutta casa Sto bagnando E' bella questa cosa qui Anche se quest'acqua Crea tipo Una nebbia Che in Val Padana Se la sognano Qui in Val Padana In Bologna C'abbiamo la nebbia Che è sempre Però Questa qui non è nebbia Questa è proprio Già finito Già finito Vabbè Push out the UFO Io voglio capire Stufo chi l'ha messo lì sopra O l'hanno portato gli alieni Allora gli alieni esistono Ok così Guarda così così Uh Troppo così Troppo 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 Devo stare più delicato Ok Mi piacciono questi muri Che cadono da soli Così Ok Vabbè Un po' di polvere Che caspita Sto lavorando Non è che sto giocando Se sti giocando Allora uno dice Vabbè Però sto lavorando Quindi non si possono lamentare sempre Uh Caspita No 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 Non mi prendere Guarda questo pilastro qui Che è il più forte del mondo Il pilastro Ok Vai così Vai 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 Non ti preoccupare Non ti preoccupare di niente Ripariamo il dust Ma non c'è nessuno Tanto Chi se ne frega del dust L'operatore si mette la mascherina E siamo a posto Scusa Stiamo scherzando Stiamo forse scherzando Ok Guarda come Come butto io bene Le cose giù Non le butta nessuno Vai No Caspita 95 Ma poi come la riparo Sto cosa Sapete che io non so se lo posso riparare No Vabbè Ma chi se ne frega Poi lo troveremo Un sistema per ripararlo Vai Vai così Vai così Di cattiveria Dust Secondo me si arrabbiano Eh Si arrabbiano Per tutto Uh la miseria Quanta polvere sto alzando Allora Secondo voi Se mi cade in testa Mi rompe Ma io lo vedo Non lo vedo proprio benissimo Non lo vedo stabilissimo Eh Ok 80% Ma io poi Se scendo Lo posso riparare In qualche modo Tipo con questo Ah Lo riparo io Ma allora Chi se ne frega Allora la grande Allora Uh Signor UFO Si sposti Si sposti Lei che è sempre in mezzo Tutti i film Ok E ok Quale caspita è rimasto adesso Non si vede niente Non si vede ragazzi No Questa luce qui come messa E in Come Come l'hanno collegata Non lo so Eh UFO Dov'è che la devo portare Eh Push up Push out Dove lo devo pushare Ok Io lo spingo Ma dove lo devo spingere St'UFO Non ha capito L'UFO dove metterlo Eh Vabbè Deliver Ma Deliver dove Io lo spingo in strada Ok Devo solo capire Chi è che non si è rotto Chi è che sta qui E non si vuole rompere Forse questi pezzettini qua Abbassa Abbassa Così vediamo se Ah Ok Erano questi Ok Task Task finish Ragazzi Eh bello Bello Finalizza Finalizza Non so L'UFO Chi l'ha messo lì Però qualcuno L'ha messa Sono soldi importanti Io direi di farcene anche un altro Zitti zitti Niente niente Ce ne facciamo anche un altro Magari un altro più vicino Magari un altro Che posso arrivare col taxi Perché io perdo più tempo Perché io perdo più tempo a arrivare con la macchina Che fare il resto Allora 5000 dollari Che non me li sta dando Però Me l'ha dati Me l'ha dati Allora andiamo qui Vediamo un po' Se io clicco jobs C'ho qualcosa da Uh Potrei andare a prendere Demolish 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 Robot Part Jackhammer E il robot Ma qual'è il robot? Questo qui il robot? Come ti chiami? Ugi? Vuoi comprare l'excavatore? No Io voglio il robottino E forse questo è il robottino ragazzi Quanto mi costi? 8500 Porca di quella Cos'è? Cioè tipo Cioè Sembra un'altra cosa Con quello spontaneo Va bene Non possiamo fare questo lavoro ancora Dobbiamo farcene un altro Vintage Oppure facciamoci Facciamoci bagni Va Show on the maps Ok Accetta Devo andare qui Per andare qui Mi conviene andare In una zona qui Quindi accettiamo Andiamo qui E prendiamoci la macchina Questo è bello Perché così non ti devi Diventare matto Che certe volte ci sono certi giochi Che ti fanno fare per forza Tutti i chilometri Si lavora di notte ragazzi Perché in questo gioco Non si può andare avanti col tempo O almeno Io non l'ho trovato Incoming call Chi è questo? Ivan Stay away for my client Ma scusa Ballerina Ma questo è pazzo Ragazzi Sì le persone pazze Non le posso sopportare È pazzo proprio Allora andiamo di qua Quindi entro da questa parte Come si arriva? Penso sia questo Penso sia questo Allora intanto qui posso anche fare carburante Questa qui è una stazione Fammi vedere La stazione di Posso fare carburante Ok Come faccio? Ent Vai No Vorrei far carburante Ma forse devo cliccare Forse devo mettermi in questo Cosa Facciamo il carburante Intanto Visto che ci siamo Imputtiamo pure 20 euro di benzina Vai Zero Zero di benzina Non so come abbia fatto A fare zero Quindi esci Gentilmente Andiamo qui sopra Facciamoci questo qui Quindi clicca qui Accetta Ok Cos'è che devo rompere? Devo rompere delle cose Deliver Allora Remove electrical wire Ok Questi qua si rimuovono in questo modo Anche se mi sbelluccicano un po' Poi prendiamo questo Prendilo Lo devo mettere fuori Ah quindi devo prendere sti cosi E metterli tutti qui dentro Ci metterò tre quarti d'ora Sto giocando anche dall'esterno Non lo so Si può giocare anche dall'esterno Ve lo voglio far vedere Vai dammi questo Comunque era veramente messo male Questo bagno eh Quindi possiamo giocare dall'esterno Possiamo giocare dall'interno Possiamo giocare da dove ci pare Nessuno ci dice niente Quindi questo ho finito Qua ho finito tutto Qua mi sembra di aver finito tutto Però dove sono gli altri Ah forse un altro Ci sono due bagni? Eh sì uno per le donne E uno per gli uomini Ok Quindi prendiamo questo Lo portiamo lì dentro Giocare dall'esterno Forse forse conviene giocare dall'interno Però si può giocare anche dall'esterno Fammi vedere come fa Hop 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 Ok Poi rimuoviamo questi fili Non so perché dobbiamo rimuovere i fili Che poi Sbelluccicano pure male Allora rimuoviamo questi filetti qui Ok Poi prendiamo questo Lo andiamo a portare fuori Me ne manca solo uno Me ne manca Non so dove sia Ok Dove c'è? Aspetta me l'avevi messo Ah qui all'angolino Chi lo vedeva mai? Meno male che c'ho sto Sto coso qui Ok Demolish 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 Ok Cos'è che vuoi? Devo demolire tutto in pratica Col martello Col martello così Così di cattiveria Ok Poi devo demolire anche queste pareti Non ho ben capito cosa devo demolire Vabbè io demolisco Quindi il tile sono le piastrelle Ok Non è Allora aspetta che così faccio fatica Faccio fatica a mirare ragazzi Dall'esterno Mirare è difficilissimo Ok Questo qui lo rompo ancora O così va bene? Ah no Devo romperlo tutto Devo romperlo Ok Ci metterò tre quarti d'ora A rompere tutti questi bagneti Poi vai così Devo rompere anche Il vetro Sì Devo rompere anche il vetro Quindi tutte le cose del bagno Devo rompere Più devo rompere I vetri Le piastrelle Devo rompere un sacco di cose Vabbè che a rompere io comunque Ragazzi Non vorrei dirvi niente Ma Sono abbastanza bravo E a ricostruire che non sono bravo Ok Qua comunque io Avrei buttato tutto giù Eh Allora colpiamole sotto Perché così cadono Uno con l'altro Quindi fammi vedere Vai così E vai così Queste qua sono tutte rotte? No Poi le romperò dopo Vai Fai rompi 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 Ok Tutto incasinato Vai Chi pulisce poi? Spero che abbiano una Cameriera Che viene a pulire Perché Rompiamo i bagni Che schifo Che schifo di lavoro assurdo Ok Rompiamo questi Guarda Ciao Ciao Ho fatto il buco più grande Così è più facile anche Per i maschietti Che non hanno mira Perché alcuni maschietti Non hanno la mira È come se non Adesso non parliamo Di cose di cui non dobbiamo parlare Rompiamo anche le pareti Ok Vai così Guarda Guarda come mi diverto A rompere tutto La porta La porta è strana Perché sembra tipo Di cemento armato La porta Ok Ma la porta più Cioè rompo Rompo con un colpo Rompo tutto Dai Mi fai entrare Ok Rompiamo anche questo Ci vorrebbe soltanto Una cosa che Io avrei messo tipo Delle bombette Lì dentro Che se ne frega Che mi conosce Quindi rompiamo questo Ok E qui cosa c'è Io anche questo Ok Rompiamo l'ultimo Che ci tocca Rompere di qua Possiamo andare anche Nell'altro bagno Qua penso sia finito Questo è finito Devo rompere questo Ok Quindi qua Penso che sia tutto finito Più o meno Ok Andiamo nell'altro bagno Nell'altro bagno C'è più cose a rompere Ok L'importante è colpire sotto Perché loro cadono Così E di Con la caduta Si rompono da sole Evitate Un po' di lavori Ok Perfetto Poi rompiamo anche questo Vai Così Prendiamo tutto Prendiamo tutto Guarda che bello Ok Qui non so come Tutti quanti Cadono perché si bloccano Si bloccano uno con l'altro Ed è una cosa incredibile Vai Rompiamo anche questo Rompiamo anche questo Ancora sono sulla beta Ragazzi Quindi Il gioco ancora potrebbe avere Dei bug Lo sappiamo I bug ci stanno Ok Questo l'ho rotto Rompiamo la porta Guarda Guarda che casino Di lavoro Che mi hanno dato Io volevo rompere Già quello lì Col macchinino Appena ci paga questo Secondo me Possiamo andare 8500 No Possiamo andare Però la prossima volta Vi faccio direttamente vedere Il gioco Cioè direttamente Vi faccio Arrivo con i soldi È inutile che sto qui a A mennare il torrone Con questo martello Ok Rompiamo Rompiamo Ok Dove devo andare? Da questa parte Che schifo di lavoro Assurdo Maledizione a voi Chi vi ha conosciuto Ok Rompiamo tutto Ok Rompiamo anche qui Queste mattonelle poi Come sono messe Cioè le mattonelle Più grosse del mondo Più grosse la mattonella Che la porta Altro poco Porta A maniglia bassissima Che così Uno non la può neanche prendere Tac 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 Dai fammi entrare Ok Devo solo capire Cos'è che devo rompere ancora Perché Mi sembra di aver fatto Già tutto Ok Questo penso di averlo finito Quindi questo l'ho finito Che cos'è che devo rompere più? Ah aspetta Ok Devo rompere forse questi? Sì Devo rompere questi No però così è impossibile mirare Ragazzi purtroppo io non so Uh questo qui è multicolor Non so mirare bene dall'esterno Dall'esterno non si Mira benissimo I vetri che non si rompono? Vogliamo parlarne di questi vetri Praticamente Vetri Anti 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 rapina tipo Vai Rompiamo questi Cosini qua E' difficilissimo da rompere Ok Vai rompi questo Che cos'è che mi manca più? Che cos'è che mi manca più? Eh tutti sti cosini minuscoli qua Devo rompere adesso Perché devo arrivare a 2 2,98 Quindi vai 2,86 Vai Proprio guarda La fine Proprio la fine Cioè questi qua uno lo può anche prendere E lasciare Quindi rompiamo questo Ok Rompiamo questo Scusi porta Manie di protagonismo Che hanno Quindi rompiamo questo 2,93 Devo sempre Guarda Devo rompere le cose più piccole possibili proprio Che neanche riesci a prenderle Perché sono Sommersi dai detti Rompiamo questo E rompiamo questo qui Ok Qua ce n'è Guarda Guarda Cosinino Oh Finalmente ce l'abbiamo fatta Finalizza E altri 1.500 dollari 8.500 ragazzi Andiamo a comprarlo il macchinino Andiamo a comprare il macchinino Così Finiamo qui Anche se ne ha potuto un po' più lungo Lunga Perdonatemi ragazzi Ma Non ci posso fare niente Non ci posso fare Quando poi ti prende a giocare Che ti metti di giochi giochi Ti dimentichi tipo di vivere Allora Io andrei Con la mappa Dalla signora Che mi vende gli oggetti Accetta No Che caspita fai Fammi andare direttamente qua Col Sì E poi devo comprarmi Intanto arriva il sole Alle 3 di mattina C'è già il sole qui Compriamoci questo 8.500 Compriamolo Accetta Ok Demolition robot Devo premere il tasto 8 E press Quindi premiamo 8 Quale 8 devo premere Forse devo premere questo Ok E poi You need the license Come caspita si prende la licenza Ok Non mi ricordo più come si prendeva la licenza Dammi la licenza a questo coso Eh Aspetta Aspetta Come caspita si prendeva la licenza Interagisci Non riesco a prendere Non mi ricordo come si faceva A prendere la licenza Forse devo andare da questa signora qui No Non c'è più la signora Quindi la licenza Non so come prenderla Bene ragazzi Allora Ci vediamo nella prossima puntata Scoprirò come prendere la licenza E spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare Un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se siete ancora iscritti Di condividere il video se potete E noi ci vediamo nelle prossime puntate Ciao 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 Ciao